Ogni volta sempre più sfiduciato, ma al contempo sempre più determinato. Il signor Bruno Esposito, presidente dell'associazione Non ti scordar di me, è partito per l'ennesima volta da Isernia, diretto alla sede del Consiglio regionale, per reiterare sempre la stessa richiesta, un centro di urno che accolga i malati di Alzheimer. Fin qui senza risposta ai ripetuti appelli e i sitin. Eppure, spiega Esposito, quella struttura sarebbe di grande aiuto per chi soffre della grave patologia e per i familiari dei malati. Quei malati, sottolinea l'intervistato, avrebbero bisogno di una struttura dove poter svolgere tutte quelle attività utili al mantenimento delle loro abilità residue, oltre ad avere un minimo di socializzazione a loro quasi sempre negata dall'isolamento a casa e dalle difficoltà delle famiglie. Nulla si sa di un recente sopralluogo di tecnici in una struttura che potrebbe essere adibita alla bisogna. Io non so quali sono i motivi, tra l'altro so che hanno fatto anche un sopralluogo nella sede che il Comune di Isernia ha indicato, poi non ho saputo più nulla. Spero che non abbiano trovato intoppi o che non vogliano trovare intoppi, ma comunque il centro si deve realizzare, anche per evitare di vedermi qua la mattina. Ora, con la pausa estiva, i tempi di una risposta potrebbero allungarsi ulteriormente la preoccupazione del Presidente dell'Associazione. Di qui l'accorato appello al Presidente Commissario ad Acta alla Sanità, Donato Toma. Ci starò fino alla pausa estiva, che non so quando ci sarà, ma mi hanno detto che me lo comunicano. Certamente passeranno altri due mesi, poi ci saranno le elezioni, troveranno altre scuse per poter rimandare alle calende greche quella che è una nostra necessità impellente. Quindi, Presidente, non trovi più scuse e apra questo benedetto centro, perché le nostre famiglie sono davvero in difficoltà.